Vado? Vai. Vai, davanti. Sembra facile, invece non lo è, quasi mai. Chiudi gli occhi se ami davvero. È figliissimo. Seguirò, segui il sentiero. Sarò io, sarò. Luce nel cielo. Quando penserei, io non ci perdò. Non lo perderai, l'amore è vero. Lo canterai, lo scalderai dal freddo. E il cielo, lotterai, lotterai perché sia vero. Ciao. Ciao Malika. Ah niente, l'ho spenta, scusate. Ciao Malika, grazie mille. Comunque bisogna dire una cosa, siccome questo video non c'è, non perché non lo voglio fare, ma perché non possiamo farlo, tipo Romeo e Giulietta, no? Non possiamo fare una cosa per ragioni discografiche che non ho ben capito. Posso dire che sarebbe stato un bellissimo video, ecco, sicuramente. Ma perché, aspetta, è un... Ragioni discografiche che non abbiamo ben capito. Allora, noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, abbiamo cercato di realizzare un video, diciamo così, riaccomodiamoci. Non metto l'ora di rivederlo su YouTube, sempre, sempre, sempre. No, sul sito di La7, scusa. Dicevamo che, insomma, questo video non c'è. No, non c'è, adesso però c'è. L'abbiamo fatto adesso, io non l'ho ancora visto, però una volta che lo vedo lo approviamo e a me piace. A te piace? Sì, molto. Perché non l'avete fatto? Eh, non si poteva fare. Non si poteva fare, per varie ragioni, non voglio dilungarmi su... A volte non basta l'amore a far accadere le cose, purtroppo. A volte ci vogliono ragioni un pochino più, se vuoi, legate alle scelte aziendali e questo è legittimo, quindi non ho niente da dire incontrare. Ok, però... Però è un peccato perché sarebbe stato un bel video. È un peccato che sarebbe stato un bellissimo video. Sì, sì. Va bene. Ma dispiace. Grazie. 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 Grazie.